Buongiorno a tutti, Domenico Giordano della Giordano Brokerge Est. Siamo qui alla CIBUS, edizione 2016, una delle fiere più importanti a livello europeo e anche mondiale nel settore food and beverage. Abbiamo deciso di parlarvi di questa fiera durante l'ultima giornata e non all'inizio, in quanto vogliamo raccontarvi i risultati raggiunti più che le nostre prospettive, i nostri progetti. Siamo arrivati in fiera sia per conoscere nuove tendenze, per conoscere nuovi produttori, per presentare anche i nuovi servizi della Giordano Brokerge Est, ma soprattutto per conto di quattro importatori specializzati nella GTO e nell'Orica, che lavora in Russia da molti anni, sono nostri partner ormai da cinque anni. Questi partner ci hanno chiesto di individuare dei prodotti ben precisi, con particolare attenzione senza glutine, ai prodotti vegetariani e ai prodotti vegani, come si può dire adesso ai free from. Abbiamo trovato circa sei aziende per ogni categoria richiesta. Qui torniamo a casa con una nuova banca dati, con nuovi contatti, con nuove persone che abbiamo conosciuto personalmente e che hanno interesse a lavorare in Russia. Il lavoro della Giordano Brokerge Est sarà quello appunto di fare un mese inqualificato. La settimana prossima abbiamo già organizzato i quattro incontri con i quattro importatori per poter definire quelle che sono le aziende per loro più importanti e quindi iniziare con il nostro aiuto quella che è la trattativa che porterà, speriamo, almeno a un 80% di realizzazione degli scopi che ci siamo prefissati. Continuiamo a sostenere che la fiera è sempre lo strumento migliore per poter conoscere il mercato, conoscere le tendenze, trovare le risposte alle domande che spesso ci pongono i nostri partner. Quindi la Giordano Brokerge Est è sempre presente negli eventi più importanti. Vi salutiamo da Parma nell'edizione del 2016 e ci vedremo al Siamo. Buon lavoro e arrivederci.